Italia perde un altro grandissimo imprenditore che ha fatto la storia. Restate a guardare il video per saperne di più. Benvenuti su Quotidiano Notizie. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Il mondo imprenditoriale italiano è in lutto per la perdita di Giovanni Roncato, il fondatore di valigeria Roncato, che ci ha lasciato all'età di 81 anni. La dolorosa notizia è stata annunciata dalla sua amata moglie, Loredana, e dai suoi quattro figli, Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico. Giovanni Roncato, conosciuto affettuosamente come Gianni, è nato a Campodarsego il 16 marzo 1942, figlio di Palmira e Antonio Roncato. Fin da giovane, ha affiancato suo padre, un pioniere nel settore delle valigie dagli anni 40, imparando rapidamente l'arte della valigeria e anticipando le esigenze dei futuri viaggiatori. Nel 1973, la sua abilità lo ha spinto a fondare ciò che sarebbe diventato il suo orgoglio, valigeria Roncato Spa, un'icona del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Roncato era un uomo dalle molteplici sfaccettature, un amorevole marito, padre e nonno, un imprenditore di successo e un innovatore straordinario. Fu il primo in Europa a introdurre la catena di montaggio all'interno del suo stabilimento, trasformando valigeria Roncato Spa nel principale produttore mondiale di valigie 24 ore dell'epoca. Ha affrontato con determinazione le sfide degli ultimi 50 anni, mantenendo saldi i valori che hanno sempre guidato il suo lavoro, la massima qualità delle sue creazioni, lo stile italiano e l'innovazione. Giovanni Roncato lascia un vuoto profondo nella vita della moglie Loredana, dei suoi quattro figli, Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico, e dei suoi tredici nipoti, il suo tesoro più grande. La sua scomparsa avviene proprio nell'anno in cui si celebra il cinquantesimo anniversario dell'azienda, un'attività che sarà portata avanti con tenacia dai suoi eredi e dai suoi collaboratori, affrontando con la stessa determinazione le sfide future, proprio come lui insegnava e desiderava.